La svolta per i turisti stranieri extraeuropei che usufruiscono dei servizi sanitari in Toscana Gianni l'aveva annunciata qualche giorno fa, probabilmente già da settembre, al momento delle dimissioni, gli verrà presentato il conto. La regione aveva anche fatto un calcolo, il ritorno economico sarebbe di circa 15 milioni di euro l'anno. Gianni si è anche recato in visita all'ospedale di Santa Maria Nuova che, essendo in pieno centro a Firenze, è il luogo in cui si concentrano le prestazioni sanitarie fornite praticamente gratis, secondo gli standard della maggior parte dei turisti extraeuropei. Gli interventi che stiamo predisponendo per far pagare le prestazioni sanitarie ai turisti stranieri sono finalizzate al fatto che queste voci d'entrata aiutino la sanità toscana a migliorare i propri servizi, ha ribadito Gianni dopo l'incontro con il dottor Lanigra, dirigente al Santa Maria Nuova. Abbiamo fatto tutta una serie di considerazioni su come arrivare a garantirci sempre di più che quello che per noi avviene negli Stati Uniti o in un altro paese avvenga per coloro che vengono qui. Addirittura una lettera che mi faceva vedere di un paziente americano che ha goduto dei servizi di pronto soccorso e nel mandare un'email di ringraziamento ha detto io sono molto contento e penso a quanto avrebbe dovuto pagare un italiano negli Stati Uniti per il servizio di ottima qualità che voi avete svolto con me. Insomma vi è una consapevolezza fra gli stessi stranieri, figuriamoci se non la dobbiamo cogliere noi.